Recita ora le famose sette offerte del sangue di Gesù per aiutare tutti coloro che sono in difficoltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare per la gloria del tuo santo nome, per l'avvento del tuo regno e per la salvezza di tutte le anime. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, per i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi e per la santificazione del popolo di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la conversione dei peccatori, per l'amorosa adessione alla Tua parola e per l'unità di tutti i cristiani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per l'autorità civile, per la moralità pubblica, per la pace e la giustizia tra i popoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la consacrazione del lavoro e del dolore, per i poveri, gli infermi, i tribolati e per tutti coloro che confidano nelle nostre preghiere. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti, amici e benefattori e dei nostri stessi nemici. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per coloro che oggi passeranno all'altra vita, per le anime del purgatogio e per la loro eterna unione con Cristo nella gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col suo sangue ci ha salvato. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti